Maxi sanzioni per un totale di 50.000 euro per due commercialisti e un notaio di Trieste derivanti da due controlli e un'ispezione di antiriciclaggio. È la triplice operazione della Guardia di Finanza che ha colpito i tre professionisti. In un primo intervento i militari nel corso dell'ispezione nei confronti di un commercialista hanno riscontrato la violazione agli obblighi riguardanti la verifica della clientela che comprendono adeguate misure di identificazione anche in base agli indici di rischio. Nello specifico l'analisi delle parcelle emesse dal commercialista e dei singoli fascicoli su ciascun cliente ha fatto emergere la mancanza di elementi del cosiddetto presidio antiriciclaggio come il conferimento dell'incarico, il documento di identità del cliente e la valutazione del rischio. Nella seconda operazione della Guardia di Finanza a un altro commercialista è stata contestata la mancata segnalazione all'autorità competente di alcune operazioni sospette, spostamento di denaro apparentemente finalizzato da attività illecite compiute da un suo cliente adottando come unica precauzione la rescissione del contratto. Nel terzo caso invece le fiamme gialle hanno scoperto entrambe le violazioni appena descritte dopo un controllo nei confronti di un notaio. Il professionista infatti non solo si era limitato a consultare un software di ricerca automatica nella rete per verificare le informazioni su un suo cliente ma aveva anche omesso di segnalare all'autorità competente alcune prestazioni professionali del suo assistito caratterizzate da un anomalo uso di denaro contante e canali bancari.